Ciao ragazzi, io sono Bremby e oggi voglio farvi vedere come si buttano via 5 Divine al giorno 3 della Lega Allora, ho droppato un Doctor aprendo Stag Deck e sono riuscito a venderlo a 15 Divine Quindi ho deciso perché non investirne 5 in 483 Stag Deck da aprire nuovamente E così ho fatto, quindi adesso vi renderò partecipi della mia apertura Magari il video lo spido un attimo e noi ci vediamo quando ho finito Ciao 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 Oh Whoa oh beh c'è già uno mi basta avanza mi basta non è che mi avanza madonna ragazzi 5 divine di carte ho tirato su un doctor vai si vado dai una una nelle ultime nelle ultime figate metticene ancora una non dai che ci sta ancora una carta bella bianca l'ultima no niente allora di bianco abbiamo fanno vedere cosa posta ok ragazzi abbiamo un doctor da l'ho venduto prima a 15 divano adesso a 16 lo metto subito subito in vendita e invece icey brother sta a 4 divane 45 quindi direi che è andata piuttosto bene direi adesso raccolgo tutto quello che manca e quindi questo metto icey brother icey brother lo metto a 4 divane 45 che è il prezzo che mi insegna che mi insegna qua 4 e 45 4 e 4 non 4 e 45 ok ragazzi è andata bene era un rischio ho avuto culo adesso raccoglio tutto sta roba e vado a letto e noi ci vediamo al prossimo video ciao